Ti voglio presentare un ragazzo della generazione Z che mi sta particolarmente simpatico perché sa fare le domande Si chiama Jacopo, Jacopo vieni qua? Jacopo vieni, fategli un applauso Jacopo Ecco, siediti Jacopo quanti anni hai? 19 Perfetto, è bello vedere un dialogo su fede e ragione tra un ragazzo di 19 anni e un sacerdote Conduci tu, ti do 5 minuti, vai, fai tutte le domande che vuoi Allora, la domanda che mi è sorta spontanea appena ho letto il titolo del nostro talk è stata immediatamente Diciamo che l'accettazione della maggior parte delle teorie scientifiche spero di non sbagliarmi della maggior parte delle teorie scientifiche è, tra virgolette, cosa nuova per la Chiesa tra virgolette, parliamo sempre di secoli ovviamente però diciamo che ad esempio un istituto come il Tribunale dell'Inquisizione a volte portava a un contrasto tra queste due diciamo a me viene da dire filosofie ma è un termine ovviamente sbagliato perché io metto da una parte la scienza e da una parte la religione e quello che mi chiedo io è è possibile che in un mondo in cui non ci sia fede si possa progredire soltanto con la scienza? è una bella domanda questa la scienza ovviamente permette all'uomo di vivere di migliorare le sue condizioni e direi certo la mia, la visione di un credente vedo nella scienza anche tutte le facoltà che Dio concede all'uomo alla sua intelligenza che sviluppa e quindi permette il progresso e questo credo sia proprio un segno anche della benedizione di Dio la scienza quando si allontana da quelli che sono i parametri antropologici che riguardano l'uomo rischia poi di andare addirittura contro il rispetto di quella che è la dignità dell'uomo perché se pensiamo e penso ai casi estremi di manipolazione che si possono operare sull'uomo sul corpo per esempio quando tutto questo viene fatto non per un fine legato al benessere, alla salute ma viene fatto con altri scopi allora faccio un esempio certamente banale ma la scienza che dovrebbe essere al servizio dell'uomo del suo benessere può essere addirittura contraria e frenare, peggiorare la sua condizione e adesso mi deve perdonare la provocazione però questa è proprio una provocazione e non può succedere la stessa cosa con la religione parlando della scienza cioè la religione non può in qualche modo non solo intoppare ma addirittura far regredire forse il progresso dal punto di vista scientifico prettamente scientifico non umano prettamente scientifico allora quando si vive però la religione in un modo direi viene da dire un po' bigotto retrogato quando non si percepisce lo spirito che è dentro la ricchezza di una tradizione religiosa è vero si può vivere la religione senza dialogare con la modernità devo dire che noi nella Chiesa Cattolica abbiamo fatto un'esperienza importantissima che è stato il Concilio Vaticano II negli anni 60 del secolo scorso la Chiesa ha riunito tutti i suoi vescovi del mondo intero a Roma per rispondere alle sfide del tempo presente per come annunciare e far comprendere il messaggio di Gesù oggi volendo un aggiornamento e un Papa conservatore così veniva definito Giovanni XXIII che ricordiamo come il Papa Buono disse noi dobbiamo aprire le finestre, le porte della Chiesa deve entrare aria fresca perché la Chiesa deve mettersi anche in ascolto del mondo e dialogare col mondo rispondendo alla modernità senza aver paura quindi la fede, la religione devono sicuramente dialogare essendo se stesse e quindi portare in fondo proprio Giovanni XXIII che studiavo in questi giorni e lo stesso Paolo VI dicevano perché la Chiesa in questi ambiti è chiamata a dire la sua non perché vuole imporre la sua visione ma perché è esperta di umanità e allora vuole aiutare l'uomo a vivere pienamente la sua vocazione perché sia felice meravigliosi sei bravissimo Jacopo grazie dove vai? rimani là io mi metto al tuo posto e tu rimani là perché è bellissimo questa cosa mi piace un sacco e stavo pensando quando ci saranno un Walter Inselo co-conduci insieme a me facciamo metà conduco io metà conduci te hai un'altra domanda da fare? sì volevo sapere secondo lei questa è un po' una curiosità e basta dal punto di vista clericale qual è la teoria scientifica più controversa e più difficile da accettare cioè non da accettare da confutare e da far combaciare con gli ideali della Chiesa ma guarda su questo io adesso non me ne viene in mente nessuno perché io non ho un approccio cerco di capire quello che ogni posizione vuole dire non ho un atteggiamento contrario a priori certo ci sono molte visioni che sono incompatibili con la rivelazione cristiana quindi non solo con la dottrina cioè la nostra fede cristiana si fonda sulla rivelazione cioè su quanto Gesù ha comunicato e ci ha fatto conoscere perché per noi Gesù è il figlio di Dio quindi ha rivelato Dio quello che lui ci ha insegnato è quello che noi custodiamo nei dogmi perché il dogma possa essere trasmesso di generazione in generazione ma possa essere capito allora io non ho questo approccio adesso ci dovrei anche pensare certo tutto ciò che è contro appunto la fede che non riconosce per esempio penso mi vengono in mente anche le eresie dei primi secoli oppure a livello scientifico magari delle posizioni inconciliabili esistono però io vorrei mettere l'accento sul fatto che la Chiesa cerca di capire si confronta e apre sempre un dialogo i tempi dell'inquisizione grazie a Dio sono finiti comunque che bello la straordinaria disponibilità di un sacerdote che si mette al servizio senza copione delle domande guarda veramente sei straordinario sì sono un po' incosciente penso io invito tutte le persone che vivono a Roma nelle zone nitrofe o che la domenica vengono a fare poco consapevole del rischio una gita a Roma ad andare a seguire la sua messa la domenica a mezzogiorno e 15 alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo perché guardate veramente per me io che insomma mi piace andare a messa grazie sei troppo buono è la messa più bella che si possa ascoltare perché questo signore fa un'omelia che non va mai in automatico si prepara studia ci mette l'anima dà peso alle parole del signore sei troppo buono e crei una grossa aspettativa poi vengono la domenica cioè questa è la fallo dire ai telespettatori che verranno a trovarti allora abbiamo i due